Il sorriso di Cassel per cui questi ultimi 5 minuti veramente non rappresentano nulla di diverso rispetto a una partita di pre-season. Hoiberg per Garnett isolato dal palleggio, movimento da guardia fino in fondo da Revolution, Kevin Garnett! 21 bene, crossover contro Weber che quel movimento non lo può mai marcare. Ribadisco, non c'è un lungo dei case che può difendere una partenza in palleggio di Garnett. 4 minuti e 32 secondi, la partenza di Garnett alla Julius Erving. Peccato che in precedenza avesse fatto un movimento a centro area che non si accoppia tanto bene normalmente con uno che fronte a canestro fa questo. Ma che roba! Eh no, eh no, questo lo distanzia da qualsiasi altro giocatore oltre i 2-10 della storia del gioco. Questo è un movimento che fa spree, non lui eh!